In questo numero di Turismo Magazine, il 2023 recupera i livelli pre-Covid, feste in agriturismo per 2 milioni di famiglie, la crisi climatica danneggia il 66% degli operatori. Il turismo recupera i livelli pre-Covid, il 2023 si chiude registrando 445 milioni di presenze nelle strutture ricettive in aumento dell'8% rispetto allo scorso anno e per la prima volta superiore anche al periodo antecedente alla pandemia. A stimarlo è il Centro Studi Turistici di Firenze per assoturismo confesercenti. Il forte incremento degli stranieri che trainano ancora la domanda ha contribuito in modo determinante a compiere il sorpasso sul 2019. Le presenze estere segnano il più 13,7% sul 2022 e in valori assoluti si attestano a oltre 228 milioni. Più debole il rafforzamento del mercato italiano che segna un aumento del 2,8% sullo scorso anno. Il movimento degli ospiti nelle strutture alberghiere è stimato in crescita del 9% con le presenze turistiche che si attestano a 276 milioni, mentre l'extra alberghiero si fermerebbe a più 6% con 169 milioni di pernottamenti. Il sud e le isole sono l'area che chiude l'anno con i valori di più bassa crescita, più 4,4%. Si registrano aumenti al di sotto della media nazionale anche per il nord-est, a differenza del nord-ovest e del centro, dove le stime riportano invece una crescita di oltre 2 punti percentuali rispetto alla media. Le più ricercate sono le strutture ricettive delle città, centri d'arte e della montagna, stime altrettanto positive per le aree rurali e termali. Tra Natale e l'Epifania, a tavola e fattoria, tra percorsi naturalistici e laboratori del gusto, oltre 2 milioni di famiglie confermano un trend che premia il legame con il territorio e le sue tradizioni culinarie. A rilevarlo è Cia Agricoltori Italiani, insieme a Turismo Verde, la sua associazione per la promozione agrituristica. L'Italia dei 25 mila agriturismi, sottolineano Cia e Turismo Verde, ma resta molto frammentata lungo lo stivale, dove sono ancora evidenti gli effetti della crisi economica, tra costi alti di produzione e carobollette, come le ripercussioni forti di emergenze climatiche, carenze infrastrutturali e marginalità importanti. Succede quindi che al nord, qui già al sud, gli agriturismi optino per aperture più contenute e che non poche strutture con camere rimandino la ripresa direttamente a primaria. Dalla costa all'introterra, ad assicurare il fold-out e la clientela fidelizzata, il turismo di prossimità e il ritorno nei paesi d'origine. L'agriturismo risponde a più di un bisogno, risulta sicuramente ideale per gli abituoi della montagna, il 38% dei viaggiatori, ma mette anche d'accordo la voglia di mangiare fuori, e non come a casa, appunto, secondo tradizione e facendo economia. Immancabile la cucina regionale, il tortellino in brodo, all'arrosto al forno con le patate, dai ragù bianchi e rossi per rigorosa pasta fresca, a cotechino e zampone con le insostituibili lenticchie, tanti dolci e frutta secca accompagnati da vigne e bollicine. L'aumento dei costi, la crisi climatica e l'inflazione, sono queste le principali problematiche con cui si devono confrontare gli operatori turistici, secondo quanto rileva l'osservatorio turismo Nomisma, realizzato per conto di Unicredit. In particolare l'attività degli imprenditori del settore ha risentito in primis dell'aumento dei costi energetici e della crescita generalizzata dei prezzi causata dall'inflazione, mentre per 4 strutture su 10 la complessità operativa riscontrata nell'ultimo anno è ripesa anche dall'aumento dei tassi di interesse e dalla contrazione della domanda interna. Il 66% ha subito ricadute negative derivanti da eventi legati alla crisi climatica. Gli investimenti e le strategie messe in campo dalle strutture ricettive nel vienno 2023-2024 vanno nella direzione di aumentare la propria attrattività e rispondere alle nuove richieste del mercato. In questo contesto la sostenibilità ambientale è diventata un driver strategico fondamentale per quasi 8 operatori turistici su 10. Questa nuova consapevolezza ha spinto le strutture ad adottare politiche e soluzioni sostenibili riducendo l'impatto ambientale e incontrando la crescente domanda di turismo sostenibile. Molti operatori hanno già intrapreso iniziative in questa direzione. Il 72% degli intervistati ha fatto investimenti per la raccolta differenziata, la depurazione dell'acqua, la riduzione dei rifiuti e delle sostanze inquinanti. Il 70% si è attivato per ridurre gli specchi alimentari, il 66% ha adottato azioni di risparmio idrico e nel 51% dei casi energetico. Le strutture ricettive dichiarano di avere in programma l'attivazione di una serie di attività a favore della sostenibilità ambientale, tanto che il 35% degli intervistati implementerà entro i prossimi 12 mesi azioni di risparmio energetico. Il 28% acquisterà materie prime con caratteristiche di sostenibilità o si impegnerà a favorire gli spostamenti green dei loro clienti.